Salve a tutti per questo nuovo video. Ho appena finito di vedere la settima puntata di House of the Dragon e ho avuto bisogno di una mezz'ora per fare un attimo il punto della situazione perché sono successe un po' di cose, chi ha visto capirà. Allora, siamo a Driftmark, quindi a casa dei Velaryon e purtroppo stiamo seguendo le esecue di Lina, che vi ricordo nella scorsa puntata in preda ad una gravidanza molto molto difficile per scampare alla morte, per scampare a un suo sacrificio, per scampare a una vita infelice decide comunque di andare in spiaggia e farsi bruciare del suo enorme drago. Quel drago lì è il più vecchio di tutto il reame ed è fighissimo quel drago lì. Fatto sta che si fa bruciare dal drago che accetta di farlo per pietà, per compassione e c'è il suo funerale. E ovviamente lì sono riuniti tutti i Velaryon e tutti i Targaryen più Otto Hightower, che è tornato a essere primo cavaliere in quanto Lord Strong è bruciato a Harrenhal nella scorsa puntata. Quindi che cosa stiamo vedendo? Stiamo vedendo le esecue di Lina. La teoria sono il punto, il perché siano tutti lì e siano tutti comunque in una situazione emotivamente non indifferente. E da questa situazione qua scoppieranno un po' di casino. Andiamo con ordine. Qual è il primo casino che scoppia? Ecco, il primo casino che scoppia è il fatto che continui a corte a circolare la giusta e fondata voce del fatto che i figli di Rhaenyra e di Linaor non siano effettivamente i loro figli perché come sappiamo noi sono i figli di Harrowin Strong e di Rhaenyra perché sappiamo Linaor avere un orientamento sessuale differente rispetto a quello che il trono avrebbe voluto Linaor è apertamente omosessuale quindi non aveva l'intenzione ne voleva assolutamente anche se hanno provato non voleva dare figli a Rhaenyra ci hanno provato, si sono impegnati, hanno fatto quello che il trono chiedeva loro di fare però nessuno deve rinnegare la propria natura e quindi questa cosa di avere una discendenza, di avere una prole fra Rhaenyra e Linaor non ha giustamente funzionato e quindi i figli che Rhaenyra sono del suo amante, sono della guardia imperiale diciamo così sono della sua e quindi serpeggia ormai da diverse puntate questa voce assolutamente fondata e giustificata a corte e per questo discorso qua c'è una grossa, una grossa, grossa i figli di Ellicent, Aemond e Egon e i figli di Rhaenyra questa grossa disputa, ci sono anche le due figlie di Daemon e Lina quindi abbiamo le due figlie di Daemon e Lina Aemond che è figlio di Ellicent e di Viserys e i due figli di Rhaenyra sono sotto, diciamo, nella parte più bassa del palazzo di Driftmark che stanno suonando di santa ragione perché? Perché Emon è tornato lì a palazzo dopo aver cavalcato ed essersi impossessato del drago di Lina quello vecchio, quello gigantesco, quello fighissimo e quindi è pieno di sé perché finalmente ha cavalcato un drago vi ricordo che nelle scorse puntate nella scorsa puntata abbiamo detto che lui è molto ossessionato dai draghi e il suo sogno è sempre stato quello di cavalcarne uno tanto è vero che il fratello più grande e i due figli di Rhaenyra che fanno un po' i suoi tirapiedi li avevano combinato uno scherzo portandogli un maiale da cavalcare perché lui era veramente ossessionato e allora l'opportunità di cavalcare un drago di quelle dimensioni non se la fa scappare quindi torna pieno di sé perché comunque è un nuovo volo una bellissima esperienza e quindi nasce questa disputa anche perché lui è a conoscenza del fatto che i figli di Rhaenyra non siano i figli di Lino li chiama bastardo quindi scoppia un casino arrivano a menarsi anche piuttosto in maniera importante e uno dei due figli di Rhaenyra ora non ricordo chi estrae un coltello va a sfregiare sull'occhio Imond e gli fa perdere un occhio oltre a creare enorme lungo tutta la faccia ovviamente questo crea un sacco di casini a corte tanto è vero che poi ognuno prenderà la propria strada ma ovviamente c'è del malumore del dissenso che si porterà avanti nelle prossime puntate tanto è vero che Rhaenyra arrivano alle mani e Ellicent va a ferire Rhaenyra su un braccio quindi questa diciamo è una delle parti più importanti della puntata perché è proprio il fatto che va a disunire completamente le due casate ma questo c'è il discorso Rhaenyra Linor Linor si sente una persona un po' colpevole degli eventi perché ha detto non ero qua cioè non ero con mia soglia quando lei stava male quando lei era in difficoltà fino a che ha deciso di uccidersi e non ero qua quando Ellicent ti ha ferita quindi due persone molto importanti per me non sono riuscito a proteggerle e fa un po' una storia di ricerca nella sua coscienza e capisce che per quanto lui si possa essere impegnato non può essere il marito che Rhaenyra merita e quindi capire che comunque la loro unione che vi ripeto era nata per il volere del trono per mandare avanti la dinastia è molto in crisi talmente tanto in crisi che la notte prima Rhaenyra fa due passi con lo zio Daemon sulla stessa spiaggia presuppongo io dove aveva passeggiato quando era ragazzina con l'Inor quando appunto erano stati presentati per poi sposarsi sono passati parecchi anni ed è lì che passeggia con lo zio Passeggiano fanno un po' il punto della situazione sulla loro vita piuttosto difficile fino a che si baciano e hanno un rapporto molto molto passionale proprio per far vedere cosa che comunque tutti ormai avevano capito attrazione fra di loro e che il problema dell'incesto non è un problema a casa Targaryen dopo la loro notte di passione si è molto forte cioè Rhaenyra soprattutto propone il discorso di sposarsi perché oltre che veramente si piacevano quindi era forse il loro primo matrimonio non combinato ma voluto il discorso di sposarsi avrebbe reso intaccabile il loro diritto al trono una volta che Viserys sarebbe morto Viserys che lo troviamo sempre sempre più debole sempre meno autoritario anche se lui vuole esserlo ma preso mai troppo sul serio si vede che è proprio un re che si fonda il reame di Viserys si vede proprio che si fonda su un reame già forte di base perché sotto di lui ci sono delle persone come Corlis come comunque Demon tutta la corte comunque persone molto competenti che tengono a galla la situazione ma si vede che lui lì è stato proprio messo così tanto per tanto è vero che anche Corlis che in teoria dovrebbe essere il secondo uomo più potente dei Sette Regni fa notare spesso che in teoria il trono lo avrebbe meritato e l'avrebbe gestito anche meglio la moglie Rhaenys che è comunque molto triste perché ha appena perso la c***a però si pone il problema come riuscire a far sposare Daemon e Rhaenyra l'unico modo è che L'Enor muoia allora Daemon va a pagare va a corrompere un chiamamolo concubino un sì possiamo dire suppongo sia l'amante di L'Enor lo va a corrompere e o comunque era un combattente di corte non ho ben capito la figura di questo personaggio qua però poco importa la sua figura gli vengono dati dei soldi lui va dentro il palazzo di Driftmark nella sala di Corlis dove appunto si trova arriva poi L'Enor due combattono e poi si vede la scena di L'Enor che è finito dentro il fuoco del camino ed è morto bruciato ovviamente la mamma Rhaenyra e Corlis sono distrutti hanno appena perso la figlia adesso hanno appena perso il figlio sono demoliti da questa cosa poi sul finale di puntata si vede il tizio che era stato pagato da Daemon con i soldi di Daemon e remare su una barca molto piccola dove c'è anche L'Enor che ha finto la sua morte per poter scappare e andare oltre il mare stretto dove avrebbe potuto finalmente vivere la sua vita vivere i suoi amori vivere la sua natura senza problemi senza intralci dopo questa cosa Rhaenyra e Daemon si sposano quindi vanno a Targaryen molto molto forte con i draghi dalla propria il sangue puro dalla propria quindi vanno a creare una discendenza come si deve e quindi tutto sto casino inizia a essere un po' più del ok tutti vogliono essere liberi liberi per davvero e tutti vogliono avere voce in capitolo su quella che sarà la discendenza al trono io ho fatto caso che tutte queste cose iniziano a prendere peni inira con Daemon quindi la discendenza di casa Targaryen Eamond che prende coraggio va a cavalcare il drago e smette di essere bullizzato tutte queste cose si accrescono si accresce il potere degli che cerca la sua libertà e quant'altro è tutto inversamente proporzionale gli altri accrescono la propria forza la propria libertà tanto più Viserys diventa debole è prossimo alla departita quindi è una cosa secondo me molto di riconsiderazione altre cose da raccontarvi della trama mi sembra che non ce ne siano Imond che si appropria del drago di Lina Daemon e Rhaenyra che hanno una notte di passione e poi si sposano la famiglia Velaryon completamente distrutta rimangono ovviamente Corlys e Rhaenys e le due nipotine e quindi ci aspetteremo le ultime tre puntate come un qualcosa che andrà a ampliare questi questi discorsi che si sono costituiti all'interno di questa settima puntata dove le musiche sono sempre fenomenali le colonne sonore di questa puntata le ho apprezzate particolarmente le colonne sonore del funerale le musiche e anche il sound design di quando Imond cavalca il drago fighissimi la fotografia molto 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 bella secondo me la parte notturna non è tanto apprezzabile perché comunque queste puntate sono mandate in streaming appena usciranno i blu ray se usciranno ma spero proprio di sì li acquisterò ovviamente per collezione poi mi vorrò vedere questa puntata secondo me la parte notturna è molto più apprezzabile dal punto di vista estetico su un blu ray piuttosto che in streaming però comunque tutte le immagini sono molto molto belle ci sono anche le sequenze finali del matrimonio fra Rhaenyra e Daemon bellissime bellissime e anche le immagini del funerale iniziale sono fantastiche regia sempre perfetta è la regia del regista della battaglia dei bastardi quindi è un regista che ci sa far affrontare la violenza far affrontare momenti drammatici e anche il volo di Imond sul drago è girato benissimo una sequenza action molto molto ben fatta in questa seconda puntata abbiamo la conferma che gli attori diciamo della norma quando sono passati dieci anni quando abbiamo Ellicent più grande e Rhaenyra più grande sono due attrici che sanno il fatto loro e hanno preso il testimone alla grande dalle due attrici precedenti gli altri attori li conosciamo dalla prima puntata che si manda lavorare egregiamente è veramente una serie tv ben confezionata che si prende sempre quell'ora di tempo ma ti fa vedere tutto senza farti rompere le scatole senza troppi dialoghi come invece succede gli anelli del potere e quindi è sempre qualcosa di molto molto apprezzabile molto molto bello puntata secondo me una delle più belle della stagione se non la più bella ve lo posso dire per me è stata finora la più bella non vi do l'ora di vedere e niente iscrivetevi al canale ci vediamo al prossimo episodio ciao belli